Gli avete sentiti prima i cinque lavoratori, non so se c'eri Luca, un giornalista salendo mi ha chiesto un commento sul fatto che il Vescovo di Bergamo ha attaccato la Lega, perché tanto ormai è di moda, con chi me la prendo oggi ma con la Lega, perché siamo cattivi coi profughi, poi vai a scoprire che una fabbrica qua vicino a Grassobio ha lasciato a casa 50 dipendenti, la FAAC, quella che fa cancelli automatici, e chi è il proprietario esclusivo di questa fabbrica che ha chiuso a Bergamo per aprire uno stabilimento in Bulgaria perché l'aglio per ai costano di meno alla faccia di 50 famiglie bergamasche? La proprietà di questa fabbrica è della Curia di Bologna, è dell'arcivescovo di Bologna, quindi se gli avanzano 5 minuti suggerirei al Vescovo di Bergamo, oltre che prendersela con la Lega, di dare un colpo di telefono al suo collega Vescovo di Bologna perché ero rimasto al fatto che la Chiesa si occupasse di anime e non di business e di speculazione internazionale.